La fotografia è una vera e propria forma di arte, che ha una duplice funzione, è in grado di esprimere sentimenti, situazioni, ambienti, personaggi, ma la fotografia ha anche il racconto di storie. La storia della nostra nazione la si racconta anche attraverso la fotografia. Quando ho lavorato nei giornali, io mettevo molta cura nella scelta delle fotografie, perché a volte una foto è molto più espressiva di un testo. E quindi noi dobbiamo avere la consapevolezza artistica del valore della fotografia, che deve essere una vera e propria forma di arte e che deve essere aiutata ed assistita nella sua espressione.